ha avuto alla collaborazione con Alcide Boni, abbiamo mandato ieri un primo collegamento con Annalisa, oggi è il momento di spostarci da Mantua, ieri stavamo in stazione centrale in un paesino della provincia di Mantua, vediamo se riesco a pronunciarlo bene, Carpenedolo mi sembra che si chiami con l'edicola di Michela, l'intervento è stato registrato ieri pomeriggio per evidenti necessità organizzative, quindi sentiamo il resoconto di questo collegamento che abbiamo avuto con l'edicola di Michela Botturi, a tra poco. Allora, secondo appuntamento con gli edicolanti della provincia di Mantua, oggi siamo in collegamento con Michela Botturi che è una edicolante, poi ci dirà lei se mista oppure esclusiva, vediamo un po' di capire meglio questa attività di Carpenedolo che è una piccola località proprio al confine tra Mantua e Brescia. Allora innanzitutto buongiorno Michela. Buongiorno. Allora Michela, parlaci un po' della tua attività, anzi veramente forse è il caso di presentarti nel senso di capire tu da quanto tempo sei edicolante, se una cosa che fai da pochi anni vieni da un altro lavoro o se addirittura, come è stato il caso ieri di una tua collega Anna-Lisa, si tratta di una tradizione familiare che dura da decenni. Presentati insomma. No, e beh, la mia edicola noi ce l'abbiamo dal 2013, è da 2003, perdona, 2003, quindi sono 13 anni e mezzo, quasi 14 anni. Beh, insomma, un bel curriculum. Sì, sì, sono io con la mamma, è nel chiosco, è in centro del paese, proprio nella piazza di Carpenedolo. Dunque, immagino che tu vieni da un altro lavoro, un'altra attività, meglio, in un'altra vita facevi tutt'altro o no? Beh, allora, io, come ripeto, ho i 13 anni che sono qua, quindi avevo 22 anni quando iniziato, quindi ho finito le superiori, ho fatto qualche lavoretto, sì, poi sostanzialmente sì, il mio primo lavoro. Bene, allora, come mai proprio in questa direzione, o meglio, immagino che sia stata un'occasione da sfruttare, visto che è il tuo primo lavoro, ma poi con il tempo com'è andata? Ma è bene, bene, è andata bene, sì. Raccontaci un po', appunto, questa tua, questa storia lavorativa. Sinceramente non so cosa dire. Ecco, ti sei avvicinata a tratta da che cosa? Beh, mi sembrava carino come lavoro, infatti è abbastanza anche divertente e mi sono trovata bene. Pronto? Se vuoi ripetere, c'è stato un piccolo problema di linea. Eh, ho detto che mi sembrava attraente come lavoro e ho iniziato a fare questo lavoro, mi sono trovata bene e sono andata avanti. Eh, appunto, però, insomma, è un lavoro che comporta un bel po' di fatica, un bel po' di sacrifici. Ma sacrifici in termini di orario, sì, perché estivamente siamo qua tutti i giorni, tutte le feste, tutte le domeniche. però passa volentieri perché si è contatto con la gente, è un bel lavoro, io sono contenta. Ecco, appunto, il contatto con la gente in un piccolo paese ha delle caratteristiche un po' particolari e cioè devi pensare un po', o meglio, devi far fronte a tanti bisogni, anche di tipo diverso, perché, insomma, non c'è niente da fare. Ma l'edicola in un piccolo paese è un punto di riferimento. Sì, 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 ma infatti i miei chinenti li conosco quasi tutti e si cerca sempre di accontentarli. Ecco, dietro questo si cerca sempre di accontentarli, in realtà c'è parecchio, insomma, giovani, anziani, cioè hanno a volte le richieste, diciamo così, più strane, tra virgolette, o meglio, strane nel senso che un'edicola si trova poi piano piano col tempo ad affiancare oltre ai prodotti tradizionali anche altri tipi di prodotti, immagino, non so, le lotterie piuttosto che altri servizi. Sì, ci sono vari servizi, sì, servizi non troppi, però servizi come bollette, pagamento di bollette, ricariche telefoniche, poi sì, le lotterie noi abbiamo solo i grazie vinci, top, solo quelli, però sì, si cerca di ampliare, poi si fanno certe proposte, valuti se accettarle o no e abbiamo deciso di prendere solo i grazie vinci per il momento. Certo, senti, tu sei entrata, diciamo, 13 anni fa in questo mestiere e quindi, diciamo, la crisi l'hai sentita un po' tutta perché è appunto dal 2007 che c'è appunto questo periodo di crisi e come ti sei destreggiata, cioè come hai cercato di far fronte a questa situazione? Sostanzialmente non c'era troppo da fare, però secondo me adesso ne stiamo un po' uscendo, le cose stanno migliorando e bisognava portare solo un po' di pazienza, secondo me, come un po' in tutti i campi. Certo, certo. Senti, parliamo un po', visto che tu, insomma, sei giovane ancora o comunque frequenti ambienti giovani, mi sono un po' curioso di capire che cosa ne pensi del fatto che i giovani non frequentano tanto l'edicola, magari non è il caso della tua edicola perché è un'edicola di paese, ma insomma avrai sicuramente sentito i racconti degli altri tuoi colleghi, magari di qualche città vicina, i giovani si accostano sempre con qualche difficoltà in più. Tu che idea ti sei fatta su questo aspetto? Ma io ho sentito, sì, in realtà ho sentito colleghi che si lamentavano di questa cosa, però in realtà nella mia clientela ci sono anche tantissimi giovani. Secondo me non è vero che i giovani non leggono più il giornale. Io ho tanti clienti e anche negli anni li ho visti anche crescere, perché per dire, quando sono arrivata qua magari gente che aveva 15-16 anni, adesso ne ha 25-26, quasi 30, ho visto passare tutto il loro cambiamento di acquisti finché sono arrivati al quotidiano anche loro. Secondo me non è vero che i giovani non leggono più. Questa è una constatazione interessante, perché appunto smentisce un po' quello che si va dicendo, al meglio l'esperienza sul campo, ecco diciamo così, e invece secondo te il segno non è proprio quello. Beh, allora sono curioso di sapere i giovani che tipo di quotidiani acquistano, anche riviste, non so se tu sei in grado di dirmi un po' l'orientamento, così a grandi linee. Le riviste dà il più vario, perché poi ognuno ha i propri interessi, quindi le riviste sono anche specializzate, musica, piuttosto che computer, piuttosto che chi ama i viaggi, sulla casa, ne vendo tante, sull'arredamento, tantissime rispetto a anni fa, quelle ne vendo molte di più, e poi le classiche gossip, quelle sono moda, magari le giovani comprano più moda, le signore prendono più sui gossip, magari la cronaca giallo, quelle cose lì. Certo, certo. E invece per quanto riguarda i quotidiani, per esempio la divisione tra quotidiani i giovani locali e i quotidiani nazionali, i giovani dove si orientano? Sì, più sui nazionali. Più sui nazionali. Più sui nazionali. Dopo vabbè, giovani vecchi tutti, la gazzetta sportiva la prendono tutti, i giovani più anziani, meno anziani, mentre vedo che le persone un po' più mature sono più sui locali, sul locale. Noi siamo sotto Brescia, quindi i nostri giornali sono giornali di Brescia e Brescia oggi. E invece i giovani spaziano dalla Repubblica al Corriere, cose più nazionali, poi il fatto quotidiano rispetto al giornale, libro, dopo ognuno ha il suo orientamento politico, quindi ognuno legge un po' quello che preferisce. Senti, cambiamo argomento, parliamo un po' di un tema delicato per gli edicolanti, quello della distribuzione e ancora di più in un paese piccolo, nel senso che il legame che c'è in un paese tra l'edicolante e il proprio distributore forse è ancora più forte e a doppio filo rispetto invece a quello di un edicolante in una grande città. Ecco, come sta andando in questo periodo? Perché c'è una nuova legge di riforma, il famoso articolo 8, insomma come sono i rapporti da quelle parti? Sì, bene. Dipende poi dai momenti, dai periodi, dipende da con chi c'è nel momento in cui rispondono al telefono, però cercano più o meno di accontentarsi, magari ci vuole tempo e più le citazioni per alcune cose, però poi ci arriva sempre ad avere quello che chiediamo. Tanta fatica, tanta pazienza, però poi ce la facciamo. Sei giovane, un'esperienza bella consolidata nel settore e ti sei però avvicinata al sindacato, il tuo nome appunto è stato segnalato da Alcide Boni e anche su questo guarda sono curioso di capire anche perché appunto la parola sindacato oggi non è più così simpatica come un tempo, non è più così attrattiva. Ecco, la tua esperienza qual è stata nell'incontrare questa comunità? Allora, me in realtà non avevo questa grossa esigenza, non avevo questi problemi per contattare il sindacato, motivazioni, però secondo me è una figura importante che ci viene incontro, se abbiamo bisogno di aiuto loro ci sono sempre, ci consigliano, ci aiutano, ci spiegano quello che dobbiamo fare, insomma è importante e ci dà una mano. Anche per essere aggiornati insomma sulle ultime novità? Anche, sì, sì, sicuramente, sì, sì, ma poi qualsiasi problema loro sono sempre disponibili, quindi è una figura importante che ti dà sicurezza. Sì, ce l'hanno anche detto altri della provincia di Manto, a questo ci fa piacere naturalmente. Senti, un'ultima domanda così in chiusura, io te la faccio rispetto alla radio, allora se te l'aspettavi una radio web dedicata agli edicolanti, cosa vedi nel futuro di una radio web, su che cosa dovremmo puntare secondo te? Allora, io non lo sapevo che c'era, è stata una novità per me, l'ho saputo qualche mese fa, da quant'è che c'è, tanto che c'è. È più di un anno, ma insomma, sì, poi sai, piano piano ci conoscono, ci conosco. Beh, insomma, è uno strumento utile secondo te? È uno strumento utile, sì, sicuramente è uno strumento utile, strumento utile per capire anche queste interviste per magari capire anche i colleghi, le loro difficoltà. Esatto. Magari può essere un punto di inizio per pensare, fare qualche riflessione, sapere che problemi ci sono anche nelle altre zone, nelle particole per capire un po', insomma, il nostro mondo. Ecco, mi hai dato un buono spunto, voglio chiudere con questo invece, e cioè i problemi e le difficoltà, tu come lo miglioreresti questo mestiere? Cosa cambieresti? Così, in quel momento metti un po' in difficoltà, però cosa cambierei? Ma non so, per esempio gli orari che sono particolarmente gravosi? Ma sì, va bene, però, allora, sull'orario giornaliero magari no, perché comunque sia, perché comunque sia, è per la vendita. Secondo me, ecco, il giornale è giusto avere la mattina presto, secondo me, quindi su questo, magari più giorni di vacanza, quello sì. Ecco, ecco, quindi anche se in un paese poi bisogna darsi il cambio, insomma, non so se ci sono altre edicole nel paese. Sì, no, noi siamo in cinque. Ah, ecco, quindi una turnazione, diciamo così, un po' più regolare, questo che intendi? Sì, 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 ma sì, magari anche giorni importanti per tutti lo sarebbero anche per noi. Certo. Nel senso, il primo maggio, perché noi dobbiamo stare a casa il 2, va benissimo, però anche noi siamo lavoratori. Certo. Dopo, vabbè, non sono cose importantissime, però se si vuole fare un appunto, magari... Certo. No, no, ma infatti chiedevo, chiedevo proprio la tua opinione. Michela, io ti ringrazio di questa chiacchierata e niente, buona fortuna, speriamo di risentirci presto, magari con qualche aggiornamento. Va bene, grazie mille. Grazie.